Le fragole di Sofia. Papà porta una piantina di fragole a Sofia. Per essere una giardiniera ci serve la pioggia, il sole e l'annaffiatoio. Quando ha finito si guarda le mani. Non le piace sporcarsi le mani. Il tempo passa e Sofia è sempre triste. Le sue piantine non crescono. Ma ecco la mamma. Aiuta Sofia ad annaffiare le piantine. Spuntano i fiorellini. Maturano le fragole. A chi le diamo? A Sofia non piacciono le fragole. Così la mamma prepara. Un succo alla fragola. Una buonissima marmellata. E una buonissima torta. Ecco queste sono fragole speciali. Ciao. Grazie.